e cioè che circa la metà di queste manifestazioni, esattamente 2350, hanno avuto alla base problematiche sindacali e occupazionali, sicché se il Governo avesse voluto avere e dare alle forze di polizia una linea di estrema severità o durezza avrebbe avuto 5934 occasioni per farlo e 2350 occasioni riguardanti esattamente il mondo del lavoro. Non l'ha mai fatto. Se la vogliamo dire per intero, forse si può dire che l'input dato è stato l'esatto opposto.